Ciao Ampeer, sono ieri ritornato su un palco della 212 ed ha vinto il Tampa Pro che penso sia stata la gara più bella e con il line-up più alto della 212 quest'anno perché c'era un line-up veramente molto molto alto volevo fare i pronostici ma non sono riuscito questa è la scorecard finale, se vedete qualche puntino rosso, qualche linea rossa non l'ho messa io è la scorecard che è uscita così comunque Kion ha vinto con 5 punti totali, hanno valutato solo il pre-judging alla fine Kion ha vinto con 5 punti, quindi primo, poi al secondo posto c'era Kirit Baio Nathan Apple al terzo posto che penso che era il favorito alla vittoria Cody Drobot che ha fatto il suo debutto da Pro, questa gara l'ha arrivato quarto Ricky Moten che anche lui è passato alla 212 e alla fine al sesto posto Ahmad e Sadani comunque una gara veramente bellissima, il line-up più alto di quest'anno della 212 Kion alla fine è ritornato su un palco in teoria doveva passare al classic dopo aver fatto un'Olimpia veramente deludente però per qualche ragione non ha cambiato categoria ed è restato su questa categoria 212 questa è stata anche la prima gara con suo nuovo preparatore Patrick Tour devo dire che hanno fatto un buon lavoro Kion era in una condizione nettamente migliore rispetto all'Olimpia quasi simile più o meno a quella che ha portato al Chicago Pro l'anno scorso gara che ha vinto può ancora migliorare di condizione però tutto sommato è bastato per vincere la gara tra lui e Kirit che è arrivato secondo non c'erano dubbi che Kion avrebbe vinto Kirit era più definito però Kion aveva la shape, aveva il fisico, aveva le rotondità e i volumi quindi Kion ha vinto giustamente, veramente giustamente una vittoria meritatissima Kirit è arrivato secondo secondo posto buono, ottima condizione lui tra l'altro aveva vinto la gara l'anno scorso, aveva vinto il Tampa Pro terzo posto poi Nathan Epper che era il favorito alla vittoria lui era arrivato quinto l'anno scorso all'Olimpia 212 quindi era un po' il favorito ma secondo me a questa gara non si è saputo replicare al suo meglio perché non era in condizione poteva arrivare nettamente più definito lui tra l'altro è anche piuttosto alto rispetto alla media di quelli che gareggiano in questa categoria mi pare che sia sopra il metro e 72 e infatti quest'anno doveva anche passare alla Open ma alla fine non ce l'ha fatta perché era troppo impegnato a gestire la sua nuova pola estera quindi è rimasto in questa categoria poi ci sono stati anche due nuovi debutti in questa categoria Cody Drobot che è arrivato quarto, ottimo atleta, ottima condizione quinto posto Ricky Motten che passava dal Classic lui era arrivato anche al settimo posto all'Olimpia Classic Vizicata 2020 ottimo atleta però secondo me gli manca ancora un po' di condizione e di volumi per stare in questa categoria anche lui è piuttosto altino rispetto alla media e infine al sesto posto Ahmad El Sadani che questa volta non ha centrato la condizione se fosse stato in condizione avrebbe dato le filo da torcere a Kion ma così purtroppo non è stato comunque tornando sulla vittoria di Kion vittoria meritatissima Kion l'ho visto lentamente migliorato in condizione rispetto all'Olimpia condizione simile a quella di Chicago una cosa strana che ho notato di Kion in questa gara è che aveva una sorta di bozzo nella sua spalla destra che escludo a priori che sia Sintor perché è un puntino e ce l'ha solo sulla spalla destra non so veramente cosa sia se qualcuno lo sa me lo scrivo perché vorrei anche saperlo però mi ricordo che ce l'aveva anche Nathan Di Ascia qualche anno fa, anzi un paio di anni fa questo sorta di puntino che sporgeva dalla spalla ma non so cosa sia quindi se qualcuno sa cos'è me lo faccio sapere però a parte questo vittoria giustissima di Kion ora andrà all'Olimpia Kion ha sempre il problema della condizione se all'Olimpia arriverà più definito potrà fare veramente molto bene perché il fisico ce l'ha, lui ha tutto è un talento genetico incredibile però gli manca la condizione è sempre quello il discorso specialmente gli manca la condizione sui glutei e i femorali che sono una cosa che secondo me contano tantissimo in una gara di bodybuilding soprattutto nella categoria 212 in cui gli atleti arrivano squartati fino all'Olimpia quindi questa è una cosa che conta molto e penso che Kion ci dovrà lavorare però a parte quello lui ha tutto cioè veramente tutto, tutto, tutto è larghissimo dorsale che si allargano un sacco è una vita veramente molto, molto stretta ha una vita praticamente inesistente quasi come Brian Buchanan forse anche più stretta non lo so comunque ricapitolando Kion Pearson vince il Tampa Pro e ora farà l'Olimpia penso che farà anche il Texas Pro la settimana prossima perché inizialmente era la prima gara che avrebbe dovuto fare poi ha optato per Tampa quindi penso che farà anche il Texas Pro tra una settimana fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere cosa ne pensate della vittoria di Kion e di questa gara che secondo me è stata la gara più bella dell'anno di questa categoria vi chiedo il like e il commento come al solito se non siete ancora iscritti iscrivetevi e ci vediamo in un nuovo video grazie a tutti